Musica Si parla di lavoro nel corso dell'ultima seduta del Consiglio regionale della Toscana In aula approda la vicenda GKN, l'azienda di Campi Bisenzio che ha licenziato i 422 dipendenti, 355 operai, 67 impiegati, 20 tra quadri e dirigenti e che nei giorni scorsi ha visto il Tribunale di Firenze esprimersi a favore del ricorso presentato dai sindacati Dall'aula arriva un sì unanime sulla proposta di risoluzione sottoscritta da tutti i gruppi consigliari che impegna la giunta regionale ad attivarsi con il governo per un intervento normativo contro le delocalizzazioni delle aziende Noi oggi abbiamo chiesto l'auspicio che vengono revocati immediatamente i licenziamenti abbiamo chiesto che la proposta di legge che è già stata depositata in Parlamento avviva il suo iter velocemente e anche in maniera efficace quindi con delle proposte serie per quanto riguarda le delocalizzazioni e qualora non ci fosse una spinta veloce da parte di questo iter di questa legge presentata dal Ministro Orlando abbiamo addirittura impegnato la giunta affinché sia lo stesso consiglio regionale a fare una proposta di legge al Parlamento nel documento abbiamo ripreso i punti che ci vennero consegnati dagli stessi lavoratori in quella mattina ecco che diventa un atto che vuol condannare un sistema selvaggio che vede la speculazione finanziaria e non rispetta un modello di lavoro dignitoso noi dobbiamo sicuramente interrogarci sul modello di sviluppo che vogliamo e vogliamo farlo mettendo al centro la dignità dei lavoratori ma lo facciamo anche nel rispetto di quelle imprese, di quegli imprenditori e anche di quelle multinazionali che invece si sono sempre comportate correttamente il nostro obiettivo è la correttezza, la legalità e l'etica del lavoro la regione deve dare un segnale forte in questa direzione abbiamo detto che bisognava insieme difendere i lavoratori doveva essere la Toscana difendere i lavoratori della Toscana in questo caso di Campi ma potrebbe capitare in ogni altra città della Toscana quindi bene essere arrivati poi alla sintesi unitaria che accompagna quella che è una sentenza del giudice ma non è sufficiente noi vogliamo che sia la politica e quindi il governo ad assumersi una responsabilità importante a tutela dei lavoratori Per i 5 Stelle la vicenda GKN sta dando una lezione forte alla politica perché è arrivato il momento di fare una scelta forte a favore delle nostre imprese ma veramente del tessuto produttivo del territorio che non vuol dire sempre favorire e aprire le porte alle multinazionali vuol dire favorire le imprese che veramente incentivano la crescita economica del territorio i lavoratori della GKN ci stanno dando una grande lezione hanno fatto delle richieste precise, sono molto organizzati, determinati li abbiamo visti anche durante la manifestazione poderosa che hanno organizzato a Firenze finalmente veramente ha fatto piacere anche vedere che c'è un risveglio della coscienza dei lavoratori che si sentono uniti, che sono uniti nelle battaglie comuni e quindi niente, la proposta di risoluzione che parte oggi dalla regione toscana è la voce dei lavoratori verso il governo cioè di che cosa deve contenere quel decreto anti-delocalizzazione Anche le forze di centro-destra sottoscrivono la proposta di risoluzione Noi sottolineiamo due aspetti fondamentali, il primo è che si possa creare veramente un dibattito che non c'è stato né in quest'Aula né fuori da quest'Aula su ciò che è successo sulla GKN per domandarsi come in una città di mercato si possa veramente tutelare l'economia nazionale, la produzione nazionale e il luogo dei lavoratori in questo momento importantissimo che è tutta la narrazione dell'Italia post pandemia dall'altro chiaramente, e l'abbiamo visto in un testo che è stato modificato più volte di mitigare, cioè di evitare di buttare via il bambino con l'acqua sporca perché nelle intenzioni di penalizzare le aziende che si comportano in modo scorretto e questo è veramente chiaro ed è oggettivo non si vada invece a fare il gioco contrario cioè a scoraggiare sostanzialmente quella che è la necessità invece di creare fonti di investimento che consentono appunto di facilitare gli investimenti in regione toscana Confindustria Toscana in questo senso è stato abbastanza chiaro siamo contenti che sia stato mitigato questo passaggio nel testo ed è quello su cui Fratelli d'Italia è disposto a giocare la partita insieme alle altre forze politiche Questa è una vicenda che ormai ha assunto il respiro nazionale e sicuramente ci sarà modo di trovare una risposta a quel fenomeno che è non solo quello delle localizzazioni ma soprattutto queste situazioni patologiche di licenziamenti che arrivano dalla mattina alla sera e che sicuramente poi gettano nel panico famiglie intere e quindi creano anche un'emergenza sociale quindi la risposta delle istituzioni è una risposta forte e di vicinanza adesso vedremo se a livello di governo ci sarà una risposta altrettanto chiara che naturalmente però deve partire da due logiche da un lato la tutela del lavoro sicuramente cercare di intervenire sulle delocalizzazioni però non dobbiamo anche dimenticarci che in Toscana anche le multinazionali oltre a le tante imprese, alle tante attività artigianali, alle piccole ditte che costituiscono l'ossatura del nostro sistema economico ecco questo rappresenta un sistema virtuoso che dà posti di lavoro quindi noi sosteniamo questa battaglia però diciamo anche no a quelle logiche punitive che vedono talvolta diciamo le imprese sul banco degli imputati quando invece ci sono tante ottime imprese che danno lavoro nella nostra regione e che meritano altrettanto di essere sostenute sulla vicenda interviene anche il presidente della regione Eugenio Gianni ma io ritengo che la GKM ha già preso un bel ceffone quello di essere valutata per una condotta antisindacale dicevano gli antichi latini errare umanonest ma perseverare diabolico io l'auspicio che faccio a Merrose è che non perseveri perché lo sbaglio l'hanno già fatto nelle procedure e nel metodo oggettivamente molto superficiale e arrogante con cui si sono posti dal primo momento e a questo punto scendano sul tavolo riprendano la produzione e sviluppino le procedure così come la normativa italiana richiede Scuola e gestione della pandemia in Toscana gli alunni sono tornati sui banchi da due settimane i casi ci sono meno rispetto al resto d'Italia ma resta in nodo di come gestire le quarantene Il tema più che altro è quello delle modalità di applicazione della quarantena che la legge prevede perché al momento ancora nel caso di un alunno positivo si mette in quarantena obbligata tutta la classe spesso senza distinzioni tra vaccinati e non vaccinati o con una distinzione di pochi giorni sette giorni in un caso, dieci giorni nell'altro si stanno studiando correttivi a questo dispositivo uno dei più promossi è quello della cosiddetta quarantena aereo che prevede la messa in quarantena soltanto di coloro che in base a una individuazione più o meno attendibile dei flussi d'aria negli ambienti isolerebbe soltanto i contatti strettissimi i compagni di banco e le persone più vicine all'alunno in questione nel caso fosse positivo rimane chiaramente un forte dubbio per quanto riguarda i tempi di pausa perché in quel caso gli alunni si muovono vanno nei corridoi e quindi questo complicherebbe la valutazione e il tema degli insegnanti perché gli insegnanti vanno in più classi spesso e quindi attualmente in caso di positività di un insegnante si mettono addirittura in quarantena anche fino a nove classi per insegnante nel caso degli insegnanti di educazione fisica nella diversa modalità si potrebbe forse intervenire in modo più chirurgico la tensione è quella di alleggerire il peso delle quarantene per scongiurare l'ipotesi di un ritorno alla DAD che è invece lo spettro che tutti vorrebbero evitare e che invece se le cose continuassero con questa modalità diventa inevitabilmente un orizzonte più probabile perché mettendo in quarantena classi intere e insegnanti che hanno più classi diventa necessario poi provvedere a una didattica in forme diverse C'è poi chi solleva il tema dei trasporti non adeguati Se il comitato tecnico scientifico alla luce delle percentuali di persone vaccinate dà un certo tipo di indicazioni noi siamo assolutamente favorevoli purtroppo c'è ancora il nodo del trasporto pubblico perché noi in Toscana scontiamo parecchio questo problema è un po' dovuto anche all'avvicendamento a tutti i ricorsi al TAR a tutte le vicende giudiziarie che ci hanno visto penalizzati da questo punto di vista si spera che a novembre finalmente ci sia il passaggio ad Autoline Toscane e si arrivi a una pacificazione a un'implementazione del servizio perché non ci possiamo più permettere che di queste diatribe ne facciano spese i cittadini i territori periferici sono i più penalizzati Per i trasporti so per riportato da persone che i treni sono piuttosto affollati per i pullman penso che i pullman messi in più a disposizione abbiano in parte alleggerito la problematica Per quanto riguarda i contagi leggevamo stamani 3.900 alunni contagiati questo vuol dire troppe classi in DAD io credo che nelle classi dove il distanziamento c'è non occorra mettere tutta la classe se c'è un caso positivo bisognerebbe forse mettere i compagni vicini non lo so perché i ragazzini stanno con le mascherine in una classe dove dico se la distanza è quella conforme non c'è bisogno di mettere tutti altrimenti anche l'insegnante anche il collegio dei docenti perché l'insegnante va nel collegio dei docenti e quindi si va a finire tutta la scuola bisogna trovare qualcos'altro per diciamo sopperire alla DAD non si può ritornare alla DAD per tutti assolutamente troppo tempo perso senza provvedimenti efficaci dice Fratelli d'Italia le soluzioni di soluzioni improvvisate su questa pandemia ne abbiamo viste talmente tante che ormai non ci meravigliamo di niente abbiamo visto i distanziamenti passare da due metri a un metro passare sui treni regionali non ci vuole il green pass si può stare tutti ammassati ma sui freccia rossa dove i posti sono prenotati e si è già distanziati dagli altri invece ci vuole il green pass quindi di provvedimenti di ogni genere e tipo quindi nel discorso quarantena light quarantena normale il problema è un altro il problema è che in un anno non è stato fatto assolutamente niente per la scuola non è stato fatto niente di quello che era stato promesso per la scuola se non provvedimenti inutili come quello di diminuire da due metri a un metro il distanziamento tra i banchi e la cattedra era come se quest'anno il covid fosse stanco non riuscisse più a saltare di due metri ora salta solo di uno quindi credo che rientri in questi provvedimenti senza spiegazione l'unica novità per fortuna e questa sono felice che finalmente sia arrivata è quella dei tamponi salivari cioè dei test salivari perché comunque almeno chi ha necessità di utilizzare questo strumento non deve ricorrere all'invasivo tampone oreo faringeo questa credo sia l'unica novità i mezzi pubblici non viaggiano assolutamente con le capienze ridotte basta avere un po' di onestà intellettuale e farsi un giro su un treno regionale piuttosto che sulla tramvia o su un autobus a Firenze i mezzi sono strapieni noi abbiamo fatto la settimana scorsa un viaggio tra Chiusi e Firenze una mattina all'orario dei pendolari il treno regionale non c'entravamo da quante persone c'erano tutte estipate molti con la mascherina abbassata sotto il naso e senza green pass quindi di cosa stiamo parlando? sulla necessità di scongiurare al massimo la DAD concorda anche Italia Viva bisogna arrivare a fare in modo che la didattica in presenza non si interrompa mai e quindi anche le quarantene devono essere più corte possibile più ciscoscritte non bisogna mai fermare la didattica quindi io sono favorevole per quarantene mirate non per quarantene di classe o di istituti sempre presenza sempre alleggerire il peso sui ragazzi per arrivare poi a un certo punto a rendere strutturali i tamponi salivari e quando possibile anche con congruo distanziamento consentire ai ragazzi di non utilizzare la mascherina penso soprattutto negli orari di divertimento quando vanno un po' di svago vanno all'aperto anche per quei 20 minuti giornalieri credo che bisogna ridare segnali di normalità in un contesto per cui è evidente che è importante vaccinarsi 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 e quindi non accetto che ci siano 3 milioni di persone o 2 milioni di persone che oltre 50 anni non si siano vaccinate e poi i bambini ancora con la mascherina nelle scuole a soffrire dei distanziamenti quindi hanno il rispetto soprattutto dei ragazzi che noi dobbiamo lavorare per far tornare e mantenere la didattica in presenza e non ritorno quanto prima alla normalità grazie a tutti